Don Amedeo Ruscetta Don Amedeo Ruscetta Don Amedeo Ruscetta Don Amedeo Ruscetta insegna agli allievi come si vince l'istintiva ripugnanza per i rettili, avvolgendosi serpi inocchi intorno al collo. La bocca della libera coi denti avvelenatori. Gli allievi si esercitano. Le vipere raccolte in sacchetti sono poi spedite all'istituto produttore di Siero in apposite cassette. Un indirizzo preoccupante, contiene vipere vive. L'egregio Don Ruscetta col suo strano pacco si reca alla stazione.